Sì, come no? Il campo 87 è stato dedicato alle persone che in questo momento gravissimo di emergenza purtroppo non vengono diciamo reclamate dalla famiglia o meglio la famiglia o le persone non dichiarano le intenzioni. Questo può avvenire perché le persone sono senza famiglia oppure perché magari i cari più prossimi sono in questo momento in ospedale o in rianimazione o magari famiglie lontane che in questo momento non hanno la possibilità di contatto. In questo momento ce ne sono 61 noi abbiamo un campo che potrebbe contenere fino a 600 ci auguriamo di non arrivarci ovviamente.